la vitri frigo arena apre le porte al concorsone della regione marche controlli anti covid in estate vertice tra associazioni comune e polizia 27 nuovi casi di coronavirus a pesaro ieri nessun decesso registrato presentate le iniziative per il 75esimo anniversario del ritrovamento dei bronzi di pergola buonasera e benvenuti al nostro telegiornale oggi è mercoledì 9 giugno e come sempre siamo in diretta tv e anche sulla nostra pagina facebook in apertura parliamo del concorsone bandito dalla regione marche che questa mattina la vitri frigo arena di pesaro ha visto la partecipazione di tanti candidati per sostenere la prima prova di selezione ve ne parliamo quindi in questo primo servizio di daniele romagna la corsa ai 36 posti indetti dal bando della regione marche è iniziata questa mattina alla vitri frigo arena di pesaro sono state oltre 5.200 le iscrizioni giunte per accedere ad uno dei 36 posti per il profilo professionale di funzionario amministrativo della regione marche rigidi protocolli di sicurezza per accedere e svolgere la prima selezione del concorso all'interno dell'arena oltre alla misurazione della temperatura all'ingresso e l'utilizzo della mascherina i candidati hanno dovuto esibire il referto relativo all'esecuzione di un tampone rapido molecolare con esito negativo le prove della durata di circa mezz'ora sono state spalmate su più turni durante l'intera giornata ultimo dei quali previsto nel tardo pomeriggio ripetute anche le operazioni di sanificazione delle postazioni all'interno dell'arena dove venite è offida provincia di ascoli piceno offida siamo con cittadine da quanto vi preparate quali le sensazioni prima di cominciare la prova ci prepariamo ormai da da diverso tempo in realtà siamo un po il rodaggio stiamo provando diversi concorsi proviamo a vedere che viene fuori oggi c'è questa prima prova che una presa elettiva a seguito diciamo di questa prova in cui devi fare almeno 21 risposte giuste in 30 minuti che ci daranno di tempo chi passerà questo primo step avrà una prima prova scritta e poi a seguito di quella la prova orale speriamo di arrivarci almeno la scritta è sempre un po emozionante perché comunque sono domande che ci sono tante persone e poi credo che il livello sia alto in realtà è già un anno che comunque ci sta lavorando e che sto studiando e provando tutti i tipi di concorso quali posso fare a seconda comunque anche delle lauree o dei criteri che scelgono sono 30 domande in 30 minuti ci sono alcune cose che rimangono sempre un po ostiche per le preselezioni da dove vieni dalla campagna sono tanti concorsi che già ho provato e sono venuto a conoscenza tramite appunto perché faccio concorsi per gli enti locali vengo da fano e diciamo che sono tranquillo preparazione come è andata da quanto ti prepari allora mi sono preparato tramite dei siti web o anche dei manuali sia per questo sia per altri concorsi perché comunque le materie di questa prova meno male si ritrovano anche in altri concorsi quelle aspettative ci sono? Trovare un lavoro che possa garantire una certa stabilità non solo dal punto di vista economico ma anche personale sono alte le aspettative però come va va abbiamo una coscienza possibile speriamo ma come va va dare anche uno sbocco magari allo studio che hai fatto nel percorso della vita poi perché è un periodo quello che è quindi sarebbe veramente un sogno e questa sera in primo piano c'è anche la cronaca perché si è verificato questa mattina intorno alle 6 nei pressi della stazione ferroviaria Castelferretti Falconara Aeroporto l'investimento di un uomo di 47 anni l'uomo residente a Falconara è stato investito da un treno intercity partito poco prima ad Ancona e diretto a Roma per la vittima non c'è stato nulla da fare la polizia ferroviaria ha già avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto tra le piste più accreditate il gesto volontario da parte dell'uomo e dopo Pesaro anche il comune di Fanno ha firmato un protocollo d'intesa con la guardia di finanza della provincia di Pesaro Urbino per intensificare i controlli finalizzati al recupero dell'evasione fiscale a siglare l'accordo sono stati il comandante provinciale della guardia di finanza il colonnello Enrico Blandini e il sindaco di Fanno Massimo Seri che ha sottolineato la validità della collaborazione tra le due istituzioni pubbliche e la necessità di aumentare i controlli per l'erogazione di servizi e sussidi come il reddito di cittadinanza e altre forme di aiuto alla persona Nella giornata odierna il vigile del fuoco in pensione Aroldo Genga ha compiuto 100 anni Questa mattina presso la palestra del comando dei vigili del fuoco di Pesaro Urbino si è tenuta una breve cerimonia durante la quale al signor Genga sono stati consegnati dei riconoscimenti simbolici ma significativi Genga congedatosi con il grado di maresciallo rappresenta la memoria storica dei vigili del fuoco di Pesaro e Urbino il presidente della locale sezione dell'associazione nazionale dei vigili del fuoco del corpo nazionale Ugo Schiaratura ha consegnato una targa commemorativa dell'evento ha letto un messaggio del presidente nazionale ed ha nominato Aroldo Genga membro onorario dell'associazione Si è svolto questa mattina un vertice tra associazioni di categoria comune e polizia locale per delineare le azioni di controllo delle misure anti-covid per le attività commerciali della città durante la prossima stagione estiva A fare il punto in queste prossime interviste vedrete i rappresentanti delle associazioni Davide Ipaso per Confcommercio e Alessandro Ligurgo per Confesercenti I temi sul tavolo sono l'organizzazione per l'estate che verrà sia dal punto di vista logistico sociale, imprenditoriale e legale perché sicuramente le dobbiamo far convergere due cose insieme nel senso ciò che chiederanno la polizia municipale e ciò che chiederanno i nostri operatori per poter lavorare nel miglior modo possibile abbiamo cercato di trovare il massimo punto di convergenza massima collaborazione da parte nostra come c'è la massima collaborazione da parte dei nostri operatori però dall'altra parte è anche capire e comprendere chi è che sbaglia per negligenza chi sbaglia per dolo sono due cose diverse e sicuramente dovranno essere prese due posizioni da parte degli organi di competenza in maniera diversa credo che dopo un anno e mezzo di pandemia l'operatore sappia indicativamente cosa deve fare soltanto che nella socialità dell'estate c'è una voglia da parte di molte persone di trasgredire di andare oltre e sarà il nostro compito quello di cercare di trovare il punto massimo per soddisfare il cliente che vuole trasgredire e il rispetto delle leggi la zona sottomonte, la zona di Viale Trieste e il Baia Flaminia sono quelle dove c'è la più alta concentrazione di locali questo però non vuol dire che sono le zone cattive sicuramente si dovrà fare molta più attenzione in quelle zone non vogliamo assolutamente pensare a una terza ondata da settembre-ottobre che è quello altro che la sofferenza che abbiamo sopportato lì sarebbe la morte di molte molte attività ogni estate si ripresenta il fatto che la pandemia retrocede quindi non abbiamo apparentemente nessun tipo di problema per cui c'è il libera a tutti abbiamo la popolazione, quindi le persone, i clienti che si sentono in diritto di vivere come facevano prima e veramente non è proprio il caso abbiamo delle difficoltà dal punto di vista gestionale nel qualche modo gestire la clientela quindi da un lato sì, il gestore deve seguire e lo fa tutte le regole che sono state date tutti i protocolli nazionali, regionali eccetera d'altra parte bisogna fare anche un piccolo appello alla popolazione a seguire un po' quello che il gestore del locale di riferimento ti dice e insomma non arrabbiarsi e cercare abbiamo visto anche diverse situazioni in cui l'assembramento si rivolta contro il gestore che vuole mandare via ma non solo contro il gestore ma qualche volta anche con la forza pubblica Ed ora il consueto spazio dedicato ai dati del coronavirus sul nostro territorio nelle ultime 24 ore infatti sono stati testati 3.004 tamponi 1.536 nel percorso nuove diagnosi 1.468 nel percorso guariti i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 82 con 27 casi nella provincia pesarese il servizio sanità ha inoltre informato che nella giornata di ieri non è stato notificato alcun decesso legato al covid-19 più personale e tempistiche più rapide per lo sblocco delle pratiche nasce da questi due obiettivi in materia di urbanistica l'intervento del gruppo consigliare della Lega in disaccordo con le azioni portate avanti dall'amministrazione comunale e dal primo cittadino l'intervista quindi è al consigliere comunale Giovanni Dall'Asta L'urbanistica è un problema che va avanti da diversi anni perché non è che uno si sveglia oggi e dice ah l'urbanistica non funziona cioè l'urbanistica andando avanti nel tempo ha perso delle professionalità interne quale il dirigente, alcuni istruttori che sono andati in pensione che erano storici e questo personale non è stato rimpiazzato non c'è stata la lungimiranza di formare del personale che potesse oggi in un momento così delicato rimpiazzare quelli che sono andati in pensione quindi chiaramente questa situazione ha portato a un dilattamento di tutto sia delle pratiche di accesso agli atti sia del rilascio dei permessi di costruire oggi capiamo che il governo Draghi fa il decreto rilancio con il bonus 110% e tutti i vari decreti per rilanciare l'economia se tu non sei pronto, anzi sei in difficoltà tu questa opportunità non la puoi cogliere allora noi ci siamo allarmati già un anno fa poi abbiamo presentato qualche mese fa una mozione dove abbiamo chiesto incremento del personale urbanistica tutte risposte molto leggere e insignificanti da parte del Comune anche gli ordini in qualche modo si sono fatti sentire quindi noi pensiamo che sia siamo già in ritardo comunque sia urgente assumere delle persone all'urbanistica perché quelli che stanno lavorando duramente non riescono comunque a dar risposta a tutte le domande che pervengono comunque voglio ribadire che l'assessore Nobili per dire ha ereditato questa situazione perché lui è diventato assessore da poco la situazione va avanti da tempo quindi per lui sono grosse difficoltà la responsabilità grossa ce l'ha il sindaco con la vecchia gestione del personale anche se tu devi comprare una casa o devi vendere una casa eccetera eccetera o devi presentare un progetto tu prima devi avere la regolarità urbanistica dell'immobile la certezza della regolarità urbanistica allora per avere la certezza della regolarità urbanistica tu devi fare un accesso agli atti la prima cosa quindi questo ufficio che è un front office perché è l'ufficio che forse vede più pubblico per quanto è stato leggermente potenziato non riesce a dare risposta alle centinaia di mail che arrivano tutti i giorni di richiesta primo, secondo c'è un problema nei provvedimenti allora il decreto 380 dice che le amministrazioni devono dare risposte dentro 60 giorni al permesso di costruire 30 giorni di istruttori e 60 risposte qui il comune ha fatto deliberatamente basandosi sull'articolo 7 del 380 che poi non dovrebbe essere applicato in questo caso ha spostato i termini a 120 giorni quindi oltretutto noi dilatiamo cioè il comune ha dilatato le risposte in maniera così deliberatoria in maniera libera così senza avere motivazioni serie perché l'articolo 7 dice che per opere pubbliche complesse può essere dilatato a 120 giorni non per un permesso di costruire una casetta quindi noi chiediamo un potenziamento che i termini vengono riportati a 60 giorni e che insomma si riesca a dare risposta perché adesso se non riusciamo a far ripartire l'economia con l'edilizia non riparte più torna il progetto estivo ci sto a fare fatica facciamo il bene comune rivolto ai ragazzi detta compresa tra i 16 e 21 anni l'iniziativa a cui partecipa per il secondo anno il comune di Pesaro raggrupperà i giovani in squadra e assegnerà a ciascun gruppo incarichi di cura e valorizzazione di beni e spazi pubblici della città premio settimanale che riceveranno i giovani saranno i buoni fatica dal valore di 50 euro spendibili negli esercizi commerciali della città convenzionati con il progetto per partecipare alle iniziative i ragazzi residenti nel territorio comunale possono iscriversi sul portale www.cistoaffarefatica.it Sono stati consegnati nella sede dell'Ordine dei Medici Provinciale i diplomi per il primo corso per assistenti di studio odontoiatrico corso di formazione professionale organizzato dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani di Pesaro e Urbino e dall'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Benelli di Pesaro il corso ha diplomato 18 allievi che hanno ritirato gli attestati alla presenza di rappresentanti dell'Andi e dell'Istituto Scolastico Ed è pronta a tornare a Baia Flaminia il tratto di arenile destinato ai bagnanti con cani al seguito situato in una porzione di spiaggia libera a Baia Flaminia servizio che viene riproposto dopo il grande successo riscosso nella scorsa stagione e che anche quest'anno sarà attrezzato di diversi servizi dal noleggio e deposito dei materiali da spiaggia ciotole per gli amici a quattro zampe docce, bagnino di salvataggio e ovviamente la possibilità di poter fare il bagno con il proprio cane l'inaugurazione è prevista per sabato 12 giugno Ed ora cambiamo completamente argomento perché si è spento all'età di 88 anni Alberto Pascucci fondatore e imprenditore degli anni 50 dell'omonima azienda di caffè nata con la sede situata a Monte Cerignone nell'entroterra pesarese è divenuta poi celebre e famosa a livello internazionale esportando i suoi prodotti in oltre 20 paesi nel mondo tra i primi messaggi di Cordoglio quello del presidente della provincia Giuseppe Paolini proprio la provincia di Pesaro Urbino nel 2015 aveva segnato a Pascucci un attestato di pubblica benemerenza alla carriera consegnato dall'allora presidente Daniele Tagliolini e sono previsti per sabato mattina alle 10.30 al Duomo i funerali di Fiorenzo Troisi vigile urbano in pensione molto conosciuto in città tanti messaggi di Cordoglio per uno dei volti più conosciuti della polizia locale pesarese dai familiari agli amici dalle istituzioni agli ex colleghi anche gli Angels hanno voluto ricordare Troisi vista la sua grande passione condivisa con la società per il football americano Ed ora cambiamo completamente pagina perché sono state presentate questa mattina le iniziative in programma per il 75esimo anniversario del ritrovamento dei bronzi da cartoceto di Pergola le sentiamo quindi nelle interviste di questo prossimo servizio realizzato da Antonio Astuti Siamo nella sala che ospita i bronzi dorati di Pergola questi meravigliosi reperti archeologici che sono stati ritrovati una giornata di giugno del 1946 nella parrocchia di Cartoceto di Pergola il paese alle falde del Monte Acuto del Monte Catria che sono proprio sopra questa località meravigliosa della provincia di Pesaro Urbino non a caso siamo qui perché oggi saranno presentate le celebrazioni che ricorderanno il ritrovamento dei bronzi dorati Confcommercio è presente all'appuntamento inserito ovviamente nell'itinerario della bellezza della provincia di Pesaro Urbino con tutti gli altri tesori del nostro territorio Il 26 giugno è appunto il giorno del ritrovamento 75 anni fa dei reperti dei bronzi dorati di Pergola da cartoceto di Pergola in questa occasione insieme a Capalazzo che è una struttura turistica di un cittadino olandese che ormai è diventato cittadino di Pergola verrà inaugurata una mostra molto importante di uno scultore olandese Will van der Waal che porterà i suoi bronzi di imperatori romani tra cui un Giulio Cesare che assomiglia molto ai bronzi dorati di Pergola perché è a cavallo e lui stesso dice che ha tratto ispirazione dai bronzi di Pergola tra l'altro questo scultore olandese viene da una zona la Mosa e la Renaria e la Renania che erano una volta terra romana quindi con tanti palazzi di epoca romana quindi è un'altra manifestazione che cerca di rendere ancora più internazionale il museo dei bronzi dorati di Pergola in un contesto quello dell'attività che svolge la Confcommercio attraverso l'itinerario della bellezza ma anche attraverso l'itinerario archeologico di promozione a livello nazionale e internazionale dei beni culturali che sono presenti nei 13 comuni che hanno affidato alla Confcommercio l'incarico di essere valorizzati e promossi a livello nazionale e internazionale quest'anno peraltro probabilmente riusciremo anche in occasione del 26 giugno a presentare la nuova edizione dell'itinerario della bellezza che è stata rivista con l'inserimento anche di due nuovi comuni Sanso Corvara Auditore e Tavuglia mentre stiamo lavorando e usciremo probabilmente entro luglio all'itinerario del silenzio e della fede per valorizzare anche gli eremi i conventi, le chiese tra cui due chiese anche di Pergola che sono uno strumento per attirare sul nostro territorio il turismo religioso che è in forte crescita nel nostro paese noi abbiamo la fortuna di custodire i bronzi dorati nel nostro museo per la città sicuramente sono un gioiello veramente prezioso non potevamo non evidenziare questo anniversario così importante e questi periodi di chiusura questi ultimi mesi di difficoltà ci hanno dato però modo di organizzarci, di prepararci per quella che sarà la ripartenza e preparare tutte le iniziative future già lo scorso anno abbiamo avuto un numero di visitatori maggiori rispetto alle stati precedenti proprio perché con il Covid ci ha dato anche l'occasione di riscoprire un modo diverso di vivere i nostri territori e questo è stato positivo in questo caso quindi abbiamo deciso di prepararci proprio per questa nuova annata in maniera ancora più profonda ci saranno varie iniziative da una mostra, un convegno, una presentazione abbiamo lavorato in questi mesi anche insieme alla soprintendenza proprio per offrire delle occasioni di approfondimento riguardo i nostri bronzi anche a livello culturale e scientifico una presentazione di queste celebrazioni per i 75 anni del ritrovamento dei bronzi dorati che prevedono fra l'altro la pubblicazione di un nuovo catalogo di questa mostra che abbiamo avuto modo di sfogliare mi è piaciuto molto un concetto che ho trovato serendipiti allora serendipiti significa casualità questi bronzi sono stati trovati per caso a Pergola 75 anni fa ma tutto quello che è venuto dopo non è stato un caso ma mi fa molto piacere questa domanda veramente perché è una lettura a cui sono molto affezionato questa casualità che poi fa la storia di tutti noi sia personale che della vita comunitaria per cui serendipiti questo ritrovamento poi ha consolidato questa forma di identità e questa cura e difesa del territorio è straordinario perché Pergola è ricca di ori c'è il tartufo ci sono i bronzi ci sono tante cose che fanno di Pergola e del territorio veramente un'eccezione e credo che questo ritrovamento sia il coronamento per certi versi di una permanenza dell'opera nella città di Pergola e per tutto il territorio il catalogo è stato edito pochi mesi fa per cui nel 2021 affinché il 2021 riconoscesse una nuova veste un nuovo approccio verso le opere d'arte presenti al museo e nello stesso tempo celebrasse in modo più consolidato il 75esimo ovvero il museo dei bronzi dorati di Pergola e questa sera chiudiamo con la musica perché 40 giovani musicisti studenti di licei scuole secondarie scuole di musica privata di 4 regioni italiane ognuno dalle proprie scuole o abitazioni daranno vita ad un'orchestra diffusa sul territorio italiano suonando in tempo reale sull'arraggiamento originale di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone questo è il progetto che si chiama Springs Prelude ce ne parla nella prossima intervista Elisabetta Tamburello dell'associazione In Musica L'appuntamento è intanto per venerdì 11 alle 19 sul nostro canale YouTube che si chiama In Musica School è un progetto pilota nel quale abbiamo creduto molto e unisce alcune scuole sparse per l'Italia e alcune istituzioni scolastiche parliamo di Fuggi Ceccano Roma Frosinone Napoli e Como e il liceo scientifico qui musicale di Pesaro e la nostra associazione in musica siamo riusciti attraverso il progetto Ecomusis a lavorare in tempo reale all'interno di stanze virtuali cosa che per i musicisti è di solito assolutamente impossibile abbiamo creato un concerto l'abbiamo registrato il 21 maggio su un arrangiamento di nuovo Cinema Paradiso di Morricone fatto dalla nostra associazione in musica e con la straordinaria partecipazione del maestro Gianni Oddi che si è prestato a provare e a suonare con questi ragazzi sono una quarantina di studenti degli istituti e abbiamo provato per un paio di mesi e siamo riusciti proprio a ricreare la condizione delle prove in teatro Un concerto che verrà trasmesso anche in Piazza del Popolo oltre che sui canali digitali Sì ringraziamo moltissimo della possibilità e verrà trasmesso alla stessa ora ovviamente della premiere YouTube l'undici sera attraverso qui in Piazza del Popolo e siamo arrivati alla fine di questa edizione del nostro telegiornale prima di salutarvi però voglio ricordarvi l'appuntamento di questa sera perché alle 21.15 torna una nuova puntata di Qua la Zampa questo format prodotto ideato da Rossini TV in collaborazione con l'azienda Comis di Pesaro un format davvero molto interessante rivolto a tutti voi chiamate gli amici a quattro zampe quindi non perdetevi l'appuntamento e poi vi ricordiamo anche di scaricare la nostra applicazione gratuita da Google Play o App Store per essere sempre aggiornati e vedere Rossini TV anche quando siete fuori casa adesso vi lascio con il meteo grazie come sempre per averci seguito vi ricordo anche il nostro numero per le segnalazioni 370-366-7210 il numero utile da salvare sul vostro cellulare e tramite Whatsapp inviarci foto e video delle cose che non vanno o delle cose che volete segnalare ci vediamo domani nella Rassegna Stampa Grazie a tutti Grazie a tutti